A 32 anni viene da Gioia del Colle e finora ha visitato 91 paesi, pensate. Dall'Egitto al Perù, dalla Colombia alla Thailandia, oggi ci farà viaggiare un po' con le sue immagini e i suoi racconti. Chi? Scopriamolo. E quindi diamo il benvenuto ad Antonio Lomonte, creatore del blog e delle pagine social Notti Viaggiando. Benvenuto. Grazie a voi. Notti magiche, inseguendo un viaggio. Non c'entra in effetti simili. Vabbè, l'abbiamo adattata, va bene. Allora, intanto, Antonio, abbiamo visto un video di un safari che hai visitato, ma ne parleremo dopo. In primis vogliamo sapere come e quando nasce Notti Viaggiando e per quale obiettivo? Allora, sì. Notti Viaggiando nasce circa dieci anni fa. L'obiettivo iniziale era quello di andare a scrocco negli alberghi, più o meno. Perché era dieci anni fa, sono esplosi i social e quant'altro. E effettivamente avevo sentito che c'era la possibilità magari di fare qualche partnership con hotel o quant'altro. Bastava essere più o meno popolari in modo tale da avere qualche notte a scrocco. In realtà non ce l'ho mai fatta. Quindi ho iniziato a parlare dei miei viaggi e quant'altro, però questo obiettivo non l'abbiamo mai raggiunto. Però sì, Notti Viaggiando quindi è nata circa dieci anni fa. Perché il nome Notti Viaggiando? Esatto. Dieci anni fa circa vivevi in Brasile. Durante un viaggio fatto nel nord-est del Brasile, eravamo con degli amici e è stata una notte fantastica. E allora ho sempre detto il nome del blog si riferirà a quella notte lì. E poi in realtà in Brasile appunto studiavo, quindi studente, con i soldi da studente o quant'altro. E noi viaggiavamo di notte per risparmiare sull'albergo. Quindi magari dovevamo spostarci da una città all'altra. Preferivavamo spostarci... Ti abbiamo contagiato, scusa. Con la nostra dislessia. Oggi è scirocco anche, soprattutto per noi. E quindi viaggiare di notte per cercare di risparmiare sugli hotel e alberghi. Quindi arrivi la mattina, devastato, però non avevi pagato la notte d'albergo. E ne è valsa la pena, direi. Assolutamente. Parliamo dei safari appunto. Tu torni dall'Africa praticamente. Esatto. Sei tornato due giorni fa. Ah, due settimane fa, ecco. Ne hai visitati comunque parecchi. Ci dai qualche dritta, qualche consiglio? Perché io e Andrea stiamo pensando che quest'estate potremmo eventualmente... Io ho già una domanda. I safari si fanno o si visitano? Si visitano. Si fanno? Bom, 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 vinto io! Su Brett, Bart e giornalista. Zam, zam. No, va bene, va bene, ci sta. Però si visitano. Cioè, nel senso che... Non lo so, è veramente una domanda. Secondo me si fanno. Vabbè, vabbè, vabbè. È l'esperienza, non è il posto. Giusto. Giusto, è quello che conta l'esperienza. Vai, vai con i consigli. Allora, sì. Senza dubbio si devono fare quando... Non è il periodo delle piogge, perché altrimenti c'è troppa acqua e quindi gli animali sono un po' ovunque. Invece quando è la stagione secca si sanno i posti dove c'è la maggior parte dell'acqua, quella poca che c'è, e quindi giustamente tutti gli animali vanno nei posti dove c'è più o meno la fonte d'acqua. Ok. Poi ancora, i safari sono abbastanza impegnativi, nel senso che gli animali di giorno è troppo caldo, soprattutto in Africa, come potete immaginare, indipendentemente dal periodo dell'anno. Quindi ci si deve alzare la mattina molto presto e le scene più belle appunto sono all'alba e al tramonto, perché non fa troppo caldo e quindi tutti gli animali sono in gira ed è più facile da vederli. Non è facilissimo vederli, infatti le immagini che sono passate mostrano tantissimi animali, ma in realtà sono due settimane di ripresa. Io in realtà ho preso e ho selezionato, chiedo ai tecnici dalla regia di mandare i video. Bisogna dire, please dalla regia. Please dalla regia, se è possibile vedere i due video che ho chiesto a Fabio di unire, ecco qua. Esatto. Che meraviglia. Dicevi appunto degli animali? Esatto, anche leoni, ok. No, no, speriamoci. A che vicinanza eri? Beh, da te. Quindi due metri. Mamma mia. Sì, in realtà sembra, cioè sembra pericolosissimo, però loro sono abituati alla gente sulla jeep, quindi in realtà loro non si avvicinano alla, non salgono sulla jeep, quindi se tu sei molto vicino, loro comunque sanno che qual è una jeep e quindi non, invece è diverso se scendi dalla jeep. Ok. Se scendi dalla jeep potrebbe essere un problema. Ma la foto che hai fatto ai leoni era dalla jeep, quindi? Era dalla jeep, esatto. Ok, ok, eccola. Allora, il safari dalla jeep è un safari abbastanza semplice, nel senso comodo se sulla jeep o quant'altro. Invece un safari a piedi è più impegnativo perché la guida, noi l'abbiamo fatto col viaggio, era in Botswana, poi noi abbiamo continuato in Zimbabwe con degli amici e abbiamo fatto anche un due giorni di safari a piedi e lì le guide avevano fucili e quant'altro. Non è successo nulla, però loro dovevano, se succedeva qualcosa potevano intervenire sugli animali, però appunto difficilmente accade, però in quel caso è più difficoltoso. E qual è quello che ti ha emozionato di più? In realtà sono passate delle immagini su un aereo, abbiamo fatto il safari, abbiamo, c'è il delta dello Kavango in Botswana, che è l'unico delta che non sfoggia in mare. Ok. E praticamente ne abbiamo preso un biposto con un aereo e quindi abbiamo sorvolato ed era bellissimo vedere gli animali dall'alto. Per vedere gli animali dall'alto è veramente favoloso perché magari quando sei vicino non ti accorgi dell'immensità del posto, quant'altro invece, vedere gli dall'alto è proprio, è bellissimo secondo me, è veramente un'esperienza strepitosa. È bellissimo anche vedere dei vulcani in eruzione, immagino. Esatto. Andiamo a questo video. No, vabbè, il Vesuvio. No, il vulcano Acatenango in Guatemala. Acatenango è il nome. Ad Antonio stare qua in Italia non gli piace proprio. A quanto pare no. Praticamente un'eruzione ogni 20 minuti leggevo sul tuo profilo. Pazzesco. E' spaventoso. No, è bellissimo. Quando siamo arrivati noi in realtà non era così chiaro. Per fare il liking dell'acatenango occorre… No, liking. Che è come il trekking. Il trekking. Però c'è una differenza. Sì, è l'inglese. Non chiedetemi. Pure trekking. Sono entrambi in inglese, non lo so. Oggi siamo ubriachi. No. Ops. Va bene, quindi dicevi. Esatto, per andare sulla cima occorre fare una passeggiata, diciamo. Impegnativa. E dormire anche una notte in tenda, perché comunque è molto lungo, quindi devi fermarti. E quando noi siamo arrivati era super nuvoloso. Infatti, queste sono delle immagini. Questa era la nostra vista all'inizio. Mamma mia. Tra l'altro il vento era fortissimo. Qui si vede che veramente la gente non riesce ad andare avanti. E la vista non era molto buona. Di notte alle 4 abbiamo sentito un boato fortissimo. Ci siamo svegliati e abbiamo visto l'eruzione di notte. E questa è veramente una cosa strepitosa. Io non avevo visto sinceramente nulla di così ballo in termini di eruzione. Bellissimo. Davvero strepitoso. Andrea. Posso? Vai. Vai. Sicuri? Sicuri. Lo dicevo come una battuta. Tantissimi bellissimi viaggi. Hai messo bandiere sul tuo mappamondo. Ci sono dei posti locali ai quali sei molto legato? Per locali Italia, intendiamo. Sì. Allora, è un cliché, no? Però io vengo da provincia di Bari, da Gioia del Colle. Fiero. E secondo me ne abbiamo dei posti in Puglia veramente, veramente bellissimi. Non si potrebbe dire veramente bellissimi, però la Puglia è bellissima. Io non lo dico adesso per fare promozione a Telebario o quant'altro, ma davvero è stupenda la Puglia. Poi altri posti, a me piace tantissimo anche Napoli, davvero bella. Ma davvero tutta la costa adriatica per me è bellissima. Quindi, ripeto, non è per fare pubblicità alla Puglia, ma secondo me la Puglia non ha nulla da invidiare. Non solo il viaggio in sé, ma anche perché quando viaggi, ok, i posti sono bellissimi, però la gente è importante, il cibo è importante. E secondo me noi in Puglia veramente abbiamo tutto, davvero non... Infatti ogni volta che atterro a Bari Palese, a me sempre viene il magone, perché comunque atterrare, vedere Bari dall'alto, il mare comunque... È vero, è molto suggestivo. È bellissimo. Sai che cosa ci mancano, Antonio? Gli squali. Ho individuato un video che hai pubblicato sulla tua pagina TikTok, che tra l'altro ha tantissimi follower e complimenti. Seguitemi. Seguitelo, notti viaggiando. E 10 metri addirittura. Questo è successo a largo di Cebu, nelle Filippine. Esatto. Marica, non si possono fare pubblicità occulte. Che pubblicità? Eh, l'università... Che cosa avrà bevuto Andrea? Non si sa, però ve lo consiglio, anzi consiglialo anche a me. Cappuccino, capolo, mai più. Non l'ha fatto Michele per questo. Sì, Michele sta. Ah, l'ha fatto. Va bene, lo squalo. Sorry. Sì, no, le Filippine sono state all'inizio di gennaio e in realtà si chiamano squali balena perché sono giganteschi, no? Di squalano ben poco secondo me perché sono davvero tranquilli. Mangiano placton che infatti dal video si vede che c'era la nostra guida appunto che buttava del placton in acqua e loro appunto... E quindi lo volevate far avvicinare? Esatto. Oddio, che follia. In realtà gli squali sono lì. Addirittura c'è stata una ragazza che è stata anche colpita dalla coda dello squalo però... Che in realtà potrebbe essere anche leggermente pericolosa perché hanno una patina superficiale che potrebbe urticare. Oddio. Però no, gli squali in sé sono tranquilli, non ci sono stati mai incidenti inquietanti. Sì, ti possono staccare in arto al limite. Tutto bene. Intanto sappiamo che sei atterrato anche dove? Su un pianeta diverso dal pianeta Terra? Su Marte. Ma vabbè, sei ubriaco anche tu. Dillo prima. Perché hai visitato anche un posto che effettivamente aveva qualche parvenza. Vediamo il video atterrati a Marte mentre parliamo. Please dalla regia come dice Andrea. Ecco qua. Dove siamo? Qui siamo nel body room in Giordania. Allora in realtà quando si va in Giordania nel body room si può stare o in tenda o in queste bubble che in realtà sono bellissime perché ad esempio tu dormi e qui vedi che... E poi c'è il cielo stellato. È molto bello. Quindi anche il... Adesso sentriamo... Esatto. Vabbè, comunque dal salotto si può vedere proprio tutto il deserto ed è veramente qualcosa di bellissimo. Ti sembra essendo... Non è vetrata perché di plastica la parete però sembra davvero di essere nel deserto, sul divano. E' veramente qualcosa di strepitoso. Che meraviglia in effetti. Sì, queste sono esperienze che tu hai cercato. Che ne so, la domanda è come prepari i tuoi itinerari? Cioè fai delle ricerche anche grazie a delle pagine social, no? Sì. Allora, praticamente quello che faccio solitamente è innanzitutto voglio viaggiare in tutti i paesi dal mondo. Quindi se qualcosa manca inizi a vedere il tempo. È una bellissima ambizione questa, Antonio. Spero che stiano di arrivare a metà. Ad ogni modo. Che succede? Se c'è un paese che non ha ancora visitato, vede il periodo migliore. Ovviamente non mi devo svenare per arrivarci. Quindi anche la combo, trovare l'aereo non troppo caro, questo è molto importante. Però una volta trovata, anche prenotando in anticipo, questo aiuta molto. E poi una volta scelto il posto nel periodo migliore, mi informo tramite appunto vari blog o quant'altro di gente che c'è già stata. Ecco, vedi l'utilità dei blog, dei social. Dei social anche, esatto. Ormai ci si basa su quello. C'è qualcuno che ti contatta per chiederti qualche consiglio? Sì, soprattutto amici di amici, nel senso che se ho gente che segue la pagina sui social, ovviamente cerco sempre di dare più consigli possibili. O magari anche quando la gente è sul loco, magari se ha bisogno, so più che felice, anzi mi rende quasi orgoglioso. Eh certo, bello. Come se fossi un agente di viaggio, no? Esatto, gratuito. Andrè, prima di parlare di cibo, perché so che hai proprio la faccia del cibo, vorrei lasciarti la parola. No, io devo recuperare dei punti, quindi devo trovare il modo di fare una domanda seria. Sempre rimanendo nel campo dell'organizzazione del viaggio, assicurazione sì, no? Sì, in realtà l'assicurazione secondo me dipende tanto da dove vai. Magari se occorre andare in Francia o un viaggio in Germania oppure un viaggio comunque in Europa. E in quel caso magari anche no, però fuori dall'Europa io cercherei sempre di fare l'assicurazione. Soprattutto magari se si va in Africa o in Sud-Est asiatico o in Sud America o quello sì. In realtà anche negli Stati Uniti banalmente, perché i costi sono altissimi, quindi magari è meglio pagare un'assicurazione. Certo, credo in America convenga anche una sanitaria, perché ci potrebbero essere dei problemi. Comunque i costi non sono altissimi, si parla magari un due settimane, dipende dalla meta, no? Però magari 100 euro, 150 euro, quindi non è proprio... Magari dici ok, metto da parte questi soldi, però sono sicuro che qualunque cosa accade io sto tranquillo. Spesso i nostri voli costano meno dei nostri bagagli sui voli. Riesci a contenere tutto in un bagaglio a mano? Per quale destinazione riesci e per quale invece bisogna investire anche in un bagaglio importante? Allora io cerco sempre di viaggiare... Mi sono rifatto? Alla grande. Io cerco sempre di viaggiare il più leggero possibile e per un viaggio lungo quello che faccio è non più di 40 litri, 40-45 litri come zaino, quindi che può andare anche nella... soprattutto sugli aerei internazionali, appunto nelle cappelliere. E poi magari dopo una settimana, dieci giorni, faccio semplicemente una... Vado a una... Laundry. Laundry, esatto. Nel sudest asiatico, anche in Sud America, davvero. Paghi in base ai chili, ma per un 5 chili per pagare 10 euro. Quindi preferisco pagare quella 10 euro per fare una lavatrice, appunto, e ritornare ad utilizzare le stesse robe, invece di partire già con tutto il carico, perché in quel caso dovrei pagare uno zaino in più, e il che vorrebbe dire sicuramente molto più di 10 euro che pagherei per fare la lavatrice. Ecco, veniamo al cibo. Esatto. In Slovacchia so che hai assaggiato una zuppa d'aglio. Prima vediamo questo video qua e poi lo commentiamo. Clip. Beh. Ne ho mangiate due. Hai fatto il bis. Wow. Sì. Era affamato, però. Non era questa eccezionale pietanza imperdibile. No, secondo me anche la parte culinare è nel viaggio importantissimo. Ecco. Volevo arrivare proprio lì. Qual è il cibo che ti ha entusiasmato più di tutti? E in quale posto, chiaramente? Allora. Cibo tipico, chiaramente. So che adesso mi diranno in tutta Italia, forse, o perlomeno, nella audience di Telebari, ma a me la pizza brasiliana piace tantissimo. Quella con l'ananas. No, 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 no. Quella è tedesca. No. È Hawaii quella pizza. Hawaii. Cioè, diciamo a pizza Hawaii, poi non so se... I tedeschi però ne vanno matti. Esatto. Voglio sapere tutto sulla pizza brasiliana. Allora, è molto più spessa, è spessissima. Una pizza in realtà è per due o tre persone, quindi si condivide. Tanto che la prima volta che sono andato in Brasile, ero con due amici e un ragazzo ha ordinato la pizza. Io ho detto, ma io non ho ordinato. Ha fatto, no, non ti preoccupare, noi condividiamo la pizza. Il che per me è rimpensabile, no? Dover dividere la pizza con altre due persone. In realtà è gigantesca. Sarà una pizza di un paio di centimetri e poi ci sarà un chilo di prosciutto sopra. Poi li esagerano con tutti i condimenti. È tanto, però poi con anche il formaggio loro, a me piace. Antonio, un paio di centimetri una pizza, nemmeno quella napoletana. Lo so, è una focaccia. Invece un altro tipico che ti è rimasto impresso piacevolmente. Allora, il pad thai a me piace tantissimo. In Thailandia? Sì, esatto. In Thailandia è un ottimo posto per il pad thai, ma in realtà un po' in tutto nel sud-est asiatico. Poi noodles. A me la cucina asiatica piace davvero tanto. E anche il barbecue coreano, buonissimo. Ma tipo in Thailandia tu hai assaggiato anche gli insetti? In realtà è più una cosa che uno va al ristorante e dice prendo dieci scorpioni, due larve. Era a Chinatown a Bangkok e c'erano le verie bancarelle e quant'altro. Quindi la gente volendo poteva provare lo scorpione e tutto. Però in realtà non so bene di... Cioè non avevo un sapore ben specifico, secondo me era caramellato, quindi... Ma è giusto per... Non ha senso. Non ha senso. Solo per rispettare magari una tradizione inutile, diciamolo. Antonio, dillo anche tu in centro. Per il pricio, esatto. A noi. Andrea? Sì, volevo sapere un po' per la tua estate 2023. Sei un periodo nel quale viaggerai oppure essendo molto affollato preferirai altri periodi? Allora esatto, in estate io preferisco venire in Puglia, quello sicuro. Quest'estate in realtà andrò a un matrimonio di un'amica in Yucatan, quindi sarò un po'... Dove scusami? Yucatan in Messico. In Messico, ok. Hanno fatto tanti reality show, la Talpa. Per questo lo conosco. Però in generale cerco di stare in Puglia, nel senso... Che tra l'altro non è forse il periodo migliore perché ci sono tantissimi turisti. Però a me piace tornare a casa ad agosto, soprattutto ad agosto. Hai pensato ad un progetto post i tuoi viaggi? Libro, libro fotografico, una mostra? Allora, non sono un bravo fotografo direi. Beh, dai video vediamo. È la telecamera che è buona. Ah, ok. Sì, più che altro... Allora, un libro è interessante come progetto, impegnativo, sicuro. Mi piacerebbe poter ispirare persone, c'è altra gente. Perché magari... Allora, nessuno nasconde che magari viaggiare... Senza magari che viaggiare è costoso. Però secondo me non deve essere un limite. Perché magari, davvero, se si scelgono le opzioni più economiche, soprattutto si prenota molto in anticipo, secondo me si può fare tutto. E se si viaggia di notte. E se si viaggia di notte, esatto. Si può fare... Si può fare. Poi comunque non è economico. Nessuno sta dicendo quello. Però nemmeno così impossibile come magari si può pensare all'inizio. Poi prenotando anche in anticipo. E quindi magari se... Anche mostrando delle cose bellissime tramite il... Tramite il mio gaggio e quant'altro. Davvero mi piace quando per la gente dice Cavolo, io questo posto non lo conoscevo. Mi hai quasi ispirato ad andarci. Io, davvero, quella per me... Mi rampe di orgoglio. Ultima domanda prima di chiudere. E poi, Maricla. Da chi hai ereditato la curiosità? Che credo sia alla base di tutto. Bella domanda. Allora, io ho studiato in Brasile. Prima di... Ho fatto la laurea magistrale lì. Prima del Brasile in realtà ho viaggiato poco e nulla. E poi che è successo? In Brasile con tutti gli amici universitari o quant'altro. Lì c'è il... Da novembre a febbraio sono chiusa l'università. E quindi abbiamo quei quattro mesi. E noi davvero abbiamo detto siamo qui, dobbiamo cogliere l'opportunità. Facciamolo ora. Anche perché abbiamo tempo, siamo noi insieme e quant'altro. Quindi forse ci siamo ispirati a vicenda con i ragazzi con cui studiavo in Brasile. Quello sì. Qual è la tua prossima destinazione? Allora, esatto. Penso... Non è sicuro. Penso a Georgia. E Armenia. Io l'ho vista in concerto. Per favore, potete spegnere il microfono di Andrea cortesemente da la regina. Anche io l'ho vista in concerto. E beh, allora, anche ad Antonio, per favore, regina. All right. Resto da sola. Per ringraziare. Grazie. A parte gli scherzi, grazie davvero tanto Antonio per essere stato qui. So che non è stato facile. Sopportarci. Sopportarci, ma soprattutto sei quasi venuto apposta, no? Con la scusa della partita del Vina, dell'Inter e bla bla bla. Noi ti ringraziamo. Speriamo di vederti presto. Matt, torniamo. Ci collegheremo con te nel prossimo viaggio. Il nostro viaggio televisivo continua. Dopo la pubblicità, una grande sorpresa. Noi ti ringraziamo. 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 Grazie.